Buonasera, la nostra favola del giorno è una favola di esopo, il pastore e le pecore. Un lupo seguiva un gregge di pecore senza fare nulla di male. Il pastore all'inizio stava sulla difensiva ritenendolo un nemico e impaurito lo teneva d'occhio. Poiché il lupo continuava a seguirli senza mettere in atto un minimo tentativo di rapina, il contadino ebbe l'impressione che fosse un guardiano piuttosto che un animale insidioso. Così avendo bisogno di andare in città gli lasciò le pecore e partì. Poiché ritenne di avere una buona occasione il lupo assalì la maggior parte del gregge facendo una strage. A suo ritorno il pastore vide il gregge fatto a pezzi e disse. Mi sta proprio bene, infatti perché ho affidato un gregge a un lupo? Così anche tra gli uomini coloro che affidano un deposito alle persone avide finiscono giustamente per perderlo. Arrivederci.